Buongiorno da Piercaro Lab, sono in Viale 20 Settembre dove a giugno del 2016 sono stati avviati i lavori di riqualificazione. Qui stiamo vedendo la parte che è ancora da ristrutturare e in effetti tra i vari lavori pubblici il corso 20 Settembre era quello più degradato e urgente. Mentre qui inquadriamo la parte sulla quale si è già intervenuti, dove i lavori sono a buon punto. Il progetto prevedeva la ristrutturazione della parte centrale del viale, questo è già stato quasi effettuato, ovviamente saranno collocate poi le panchine e i cestini. Verrà realizzata una pista ciclabile di 3,50 m nel doppio senso di marcia, naturalmente sono stati riqualificati anche i marciapiedi, sempre in questa parte e ovviamente l'immagine del viale sarà decisamente migliorata, così anche come l'immagine di questa parte della pista vecchia che meritava questo tipo di intervento. Nel progetto si parla anche di interventi di traffic calming all'inizio del corso, dove c'è il corso del riso Borsalino, e naturalmente interventi anche per favorire la mobilità da parte di persone diversamente abili. Ora però i lavori sono fermi da un po' di tempo, avrebbero dovuto essere terminati sempre secondo il comunicato del Comune. Dopo quattro mesi dall'avvio, quindi il 24 giugno, c'è un certo ritardo, sembra motivato da problemi climatici. Ora auguriamoci che nel gioco di breve si riprenda, perché altrimenti questa motivazione non reggerà più, al momento è giustificata. Certo, questo corso meritava un intervento, nel comunicato non si parla di rimessa di muore delle moltissime piante mancanti, e questo auguriamoci che venga fatto, perché in effetti sarebbe un peccato se così non fosse. Bene, non resta che attendere per vedere gli sviluppi.